Dai valore alle persone con cui lavori, premiale con un'esperienza indimenticabile. Lontani dalla routine, in uno scenario da favola. Un viaggio aziendale è il palcoscenico ideale per fare squadra, motivare il team e dare valore al tuo brand. Tuttavia, organizzarlo richiede dedizione, tempo e competenze. La buona notizia è che non devi farlo tu. Scegli Samovar. Una benefit company che condivide i tuoi valori, pronta a costruire insieme a te il viaggio che immagini. Dalla strategia alla location, fino al post-evento, ogni dettaglio è nelle nostre mani. Niente sorprese, perché pianifichiamo accurati sopralluoghi. La segreteria organizzativa digitalizzata si occupa delle comunicazioni con gli ospiti, mentre il team operativo sarà al tuo fianco durante l'evento, affinché l'esperienza superi ogni aspettativa. Un incentive firmato Samovar non è solo un momento da ricordare. È un impegno concreto per un turismo sostenibile. Come azienda certificata B Corp, infatti, lavoriamo per ridurre l'impatto ambientale e migliorare gli aspetti sociali e di governance. Prenditi cura delle tue persone e del nostro pianeta. Affida il tuo brand a Samovar.